Ma ora mi stanno a cercare, ora mi stanno a cercare Marca troia Quindi fammi capire, c'è quello là preso il controllo così a buffo perché non si fidavano di loro Quindi ho detto senti buttateli fuori perché non mi fido Attenzione all'inglese shadow Ghost sfondato Ma Price? Spettacolare comunque Guarda il siamo che scende Bravo 7-1 alla cieca, mi ricevete Ghost qui 7-1 mi ricevi Oh ma sta durata la campagna raga Sono mercenari quindi possono agire senza regola a difesa di Ghost & Co, lo so, lo so Gameplay Ci parte Uh, cazzo Sto male, bebro sto male Mi hanno sparato Eh sì, ti dicevo ma sto male Ti credevamo morto Solitudine sta messia sia Ok C'è gente qua Mamma mia Si parte bomba Eh non può salzare Semme Ah sì, cazzo Sì, posso salzare Sei ferito? Eh Qual è la differenza? Vita o morte Andiamo Dove ti trovi? C'è una chiesa Ci sto andando Troviamoci là Dovrai improvvisare per sopravvivere Ok Grave Graves e Shadow Stanno facendo una carnificina Cercano Assan 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 e noi Urco 2 Urco 2 Bella sta missione Cazzarola che figa Mamma mia che bello Porca troia Hanno trovato dei poliziotti corrotti qui vicino Cazzo Niente La porta è chiusa Cerca dei materiali Cose utili per costruire strumenti Questa si chiama guerriglia Oh cazzo Porca puttana Poveraccio C'è una corda È un inizio Cerca ancora Porca tronseca Staccato un pezzo dell'elica Buono buono un cortellino E che un pezzo dell'elica con la corda è forza a una porta Non sembra la tua prima volta Anni d'allenamento Lo vedo molto in DMZ questa cosa eh Che crei le cose eh Lo vedo molto da DMZ sta cosa eh Lo vedo molto da DMZ sta cosa eh Il crafting Cioè hai avuto la stessa impressione mia no? Ok Il pezzo dell'elica si è rotto Ti ha fatto superare la porta Affermativo Bene Tieni gli occhi aperti Là in giro ne troverai altre Somo la polizia Cosa 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 Ma che cazzo 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 Cosa 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 Ma Adesso Cosa Cosa tutto una tutta con tuo mamma mi muore a mamma mia e sta scommettendo un errore cazzo ok aspetta bene bene una bottiglia utile come diversi cost ad esempio la bottiglia ha funzionato te lo dicevo ascoltami e potresti imparare qualcosa cazzo ho confiscato della cera tenente può tornare utile cazzo ma che c'è qua che c'è qua che c'è c'è un'altra cosa una trappola per topi può servire per far scattare qualcosa esatto johnny non è un attacco aereo ma basterà blocco 2 molto utile che figata ragazzi cazzo allora io l'ho morto qua che cazzo è stato mi scili con della cera e avrai una bomba fumogena un diversivo tossico cattivo mi piace loro non piacerà per niente oh cazzo che ansia raga ah coltello 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 oddio pareva ghost ghost hai perso un coltello diversi qui ce n'è uno ah ah alcuni di quegli shadow li ho uccisi io quelli sono the ghost scassato di qua sulla via per la chiesa e mi hai mollato di solito lavoro da solo bel modo di fare squadra che sfettava che non è solo spara e spara capito sta parte sembra mezzo horror cazzo qualcuno deve pur sopravvivere ti stai affezionando a me? ti stai affezionando a me? come no hai ancora molta strada da fare complicata chiedi e ti sarà dato cosa hai trovato? polvere da sparo bene le cose si fanno interessanti ho in mente un scherzetto per gli shadow ma fai ho creato una mina così mi scaldi il cuore ma che cazzo gli sta andando a fare di questi? che cazzo? eccola l'arma 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 cazzo coraggio Mettavish ghost ok si ti mancano le forze? diciamo che si race voleva ucciderci è normale essere scossi nella tua situazione prova gli stimolanti ti daranno la carica eh mi devo siringa eh ma no non è il tutorial di DMZ perché DMZ considera che giocate pure contro altri player che giocate pure contro altri player guarda col pompa là facca puttana guarda che roba belle le conversazioni di questi due pazzi eh si stanno a pie per culo sotto sotto si su Sony io entro ok prendi il necessario per tenerli alla larga tu vieni con me preso Johnny Graves sta facendo l'impossibile per trovarci perché secondo me Graves è coinvolto Graves è coinvolto in ogni caso è una montagna di merda come non ne avevo mai viste dobbiamo andare fino in fondo anche secondo me Graves di solito se ne esce con colpi precisi e letali adesso qui non siamo al sicuro hai capito adesso non siamo al sicuro da nessuna parte tenente dillo un po' del nostro adesivo molto utile per incartare un regalo più o meno ok abbine cura che cazzo è sto rumore? no no c'ho avuto il dito pesante raga no aspetta aspetta c'ho avuto il dito pesante c'ho avuto il dito pesante raga c'ho avuto il dito scusate 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 non l'ho fatto apposta non l'ho fatto apposta scusate questa qua è una gag mi sono pure mezzo cagato sotto per dire la verità ragazzi queste casse staranno su dmz ragazzi per forza dai per forza per forza dai vediamo buongiorno messico sono nella caffetteria ordinaci un tè tutti in crazy addirittura addirittura stama fa che mi faccio adesso sei indebito con me perché risolverò il tuo problema cioè ti crei le cose per aprire le casse si raga dai dai raga mostrare il volto se signore negativo i mirini no 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 ragazzi questa è dmz ragazzi questa è dmz ragazzi si si ragazzi raga sta andando mamma mia mamma mia ok figo speriamo che sia su sta linea oddio merda chiusa serve la combinazione ma addirittura così raga ma che spettacolo non mi dico che c'è stato tipo easter egg in giro che devi andare a vedere a vedere a vedere tipo il codice della cosa secondo me è qualcosa qua qualcosa qua eccoli qua guardate qua 1 2 3 1 2 3 40 10 col cuore quarantesimo anniversario c'è qualcosa qua vero? 29 30 1 no 10 10 10 10 10 10 40 anniversario troppo facile che è questo? ma un fenomeno un fenomeno questo chi è che c'ha zeccao? una pistola caribro 50 bello bello indovina cosa ho trovato bello in culo ragazzi grande gg io monto pure l'ottica io monto tiè io monto pure il mirino che ficata cazzo raga che spettacolo voi due controllate quel magazzino è disarmato non avrà lontano è della 141 non sottovalutarlo non sottovalutarlo esatto a sinistra io prendo il tipo bello 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 ci gira comunque raga non è tardi per arredo johnny la città è piena di tunnel uno sbuca proprio in prossimità della cazzo aspetta cazzo fuori uno sbuca proprio guarda prendo un tunnel si si trova mi trova un momento l'hanno fluidificato però sembra che va più veloce si si ci sto se ti beccano ti aspetta una morte lenta i mercenari o i narcos i narcos girano dei video gli darò la tua email così sapranno dove spedirli non li guarderò più di una volta dico tu sei malato apro mi piace ecco oh ma io stavo a fammi cacchimia mamma mia purco due jack a computer ci stanno i numeri 40 mi sembra che c'è un 40 che cazzo è piso superior l'entrata è 451 piso superior del ristorante 10 15 20 al fondo del garage 37 60 80 vestitor 12 12 12 12 1 al fondo del garage 37 60 80 capito però perchè mi pushano qua dentro questi 37 60 80 città ahhhh occhio il co2 porco uco 2 uco 2 uco 2 uco 2 ma ormai mi pushano Ma non è che faccio le mine Ormai mi pushano questi Non si sa per quale motivo mi pushano a caso La prendo la balestra e vado avanti A sto punto quasi quasi vado avanti Buono Burco 2 Si hanno guardato live questi comunque Mi stisneverano Lo so scavalca qua Portacci vostri Ma che spettacolo è Ragazzi comunque posso dire Cioè questa missione È insana È insana regà Ci sono degli shadow corazzati Devi avvicinarti e colpirli nei punti scoperti No vabbè No vabbè gli arrivo sott'acqua Non mi vedono non mi vedono Bello il sangue Urca troia ragazzi Mamma mia Che spettacolo La quetta è un po' Una merda Però dai ci può stare Tutto il resto Riesce a vedere la chiesa Si Bellissima enorme Anche questa è bella Anche questa è bella regà Però pure quella Pure quella di prima Lo era però Chi è che ha cecchinato Price Chi è col cecchino Urco due Mamma mia Urco due Vaffan cucolo Cioè guardate che roba ragazzi Esci da sto piccolo La modalità realismo Come cazzo esci da sto piccolo La modalità realismo Tutto stilt La devi fare Tutta stilt Tutta stilt Tutta stilt La devi fare La missione tutta stilt Il 50 pollici è volato ragazzi Oh Oh Vibro 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 Siamo qui e sanno chi siamo Vanno rinforzi Stato Di fronte Occhio nel vincolo Vai costa Ho il mio cuore Eh dobbiamo trovarlo Vibro 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 Stato La scena Facciamo un po' ridere Ragazzi Una delle missioni più belle Una delle missioni più belle Questa La seconda mia preferita O la prima O seconda o prima Con quella di prima Che abbiamo fatto Con quella col cecchino pure Che era lunghissima Mi ha dato la sua posizione Perché non me l'ha detto Non ce n'era bisogno Non ce n'era bisogno